A voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe Davidis, che amici andiamo subito a vedere cosa accadrà per il giorno di San Nicola, 6 dicembre, giovedì. Molte nuvole al mattino, soprattutto sulla Lombardia, con dei piovaschi, delle piogge, ma sfileranno velocemente verso il Veneto, verso l'Emilia-Romagna e avanzeranno da ovest, quindi a partire dalla Val d'Aosta, dal Piemonte, dal Ponente Ligure, delle aperture del cielo ampie, foschie, nebbie a risveglio, imparziale dissolvimento, guardate ancora un po' di nuvole nel pomeriggio sulla Lombardia, poi in serata ulteriore miglioramento, con cielo prevalentemente sereno un po' dappertutto. Quindi dei disturbi al mattino, poi tende a migliorare con aperture del cielo sempre più ampie. Le temperature minime, comprese tra 1 e 6-7 gradi, attorno ai 10 gradi invece sulla costa in Liguria, temperature massime che si attesteranno attorno ai 7-11 gradi centigradi. Abbiamo detto, questa è la previsione per il giorno di San Nicola. A San Nicola di Bari la rondine passa i mari, quindi va via. E se c'è qualche rondine che svolazza ancora, soprattutto al sud Italia, deve affrettarsi, perché la prossima settimana giungerà una irruzione, irruzioncina di aria fredda. Ne riparliamo comunque nel prossimo appuntamento. Arrivederci.